A Lecce l'inchiesta che ha coinvolto magistrati, avvocati e commercialisti sembra assumere connotati sempre più imbarazzanti, ma il Vice Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, assume una posizione garantista anche nei confronti degli esponenti di governo che vengono citati nelle carte d'inchiesta. Le ultime inchieste giudiziarie hanno fatto tramare il sistema giustizia proprio qui nel Salento. Come ti dare fiducia ai cittadini, le cose che senti di dire, come senti di commentare, visto che alcuni esponenti di governo sono stati chiamati in causa? Evitando di parlare di cose che non sono di competenza stretta del governo, c'è la magistratura che opera, chiunque si saprà difendere come meglio ritiene, noi quello che possiamo fare è andare avanti sulla nostra strada e provare a dare ai cittadini quello per cui ci hanno votato. C'è una giustizia più giusta, più efficiente, più rapida e anche qualche volta più trasparente. Grazie. Grazie.